Cigep 2020 ci troviamo allo stand di Agrumarie Riunite Siciliane, un'azienda siciliana che opera da oltre 50 anni e siamo in compagnia del responsabile commerciale Alessandro Albanese. Alessandro bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio, grazie di questa opportunità e di questa intervista. Ci siamo visti a host e non più tardi di tre mesi fa abbiamo raccontato quelle che erano le novità del momento. Voi non vi fermate con la ricerca e lo sviluppo e di conseguenza siete qui al Cigep certamente per riproporre le novità dell'ultimo anno ma anche per qualche altra primizia. Assolutamente sì, questa è un'eccezionale occasione quella del Cigep per presentare le nuove opportunità e presentarsi al mercato con tutto quello che riguarda i prodotti, le materie prime, gli ingredienti, le soluzioni per il mondo del bar e delle gelaterie. E' detto bene, eravamo presenti a host con delle novità riservate al mondo della prima colazione alberghiera in principal modo. Qui al Cigep abbiamo voluto presentare i nostri nuovi prodotti dedicati appunto alla linea bar e gelateria. Proponiamo qui i nostri classici cavalli di battaglia, i succhi congelati, le spremute congelate al limone, all'arancia, al mandarino tardivo di Ciaculli che sono appunto come dicevo il cavallo di battaglia di questa azienda da anni ormai nella preparazione del gelato, delle granite, di cocktail ma anche semplicemente come spremuta naturale. Quest'anno al Cigep abbiamo voluto rinforzare la nostra presenza anche con il prodotto granì, il preparato a temperatura refrigerata, già ricettato nella preparazione di granite e sorbetti di facile utilizzo e un ottimo servizio per il barman e per la gelateria del nostro tempo. Noi parliamo sempre ed esclusivamente di prodotti naturali. Assolutamente sì, veniamo da una terra dove gli agrumi fanno da padrone, lavoriamo gli agrumi da oltre 50 anni nel mondo della commercializzazione, la nostra azienda madre quest'anno compie 130 anni, per noi è un motivo di grande orgoglio, alla quarta generazione, quindi sì, sono prodotti naturali, assolutamente naturali, senza coloranti, senza conservanti, e per questa ragione che la più parte viaggiano a temperatura refrigerata o addirittura congelata. Qui al Cigep siamo proprio sotto il nostro chiosco dedicato alla preparazione dei cocktail e della miscelazione e questa è stata l'opportunità anche per presentare un ulteriore ampliamento della nostra gamma di prodotti upgrade, una linea di polpe di frutta e di sciroppi, dove l'obiettivo è riportare il sapore e il gusto autentico della frutta all'interno del cocktail e della miscelazione. Oggi contiamo quasi 60 referenze che poi possono essere completate e arricchite con la nostra nuova gamma di cocktail finish che vorrei mostrarti, sono degli oli essenziali agli agrumi siciliani dedicati appunto per l'esaltazione della fragranza e del gusto all'interno del cocktail e della miscelazione del barman moderno. Cocktail che, in modo assolutamente volontario, il vostro barman ha preparato mentre noi parlavamo dinanzi alla camera. E allora, come ti chiami? Nazareno. Nazareno, di cosa si tratta? Abbiamo preparato uno analcolico, visto un pochino l'orario, andando a valorizzare un po' quello che è i prodotti tipici della Sicilia, quindi un blend di agrumi. Abbiamo utilizzato del mandarino tardivo di Ciaculli, del succo d'arancia bionda, ho bilanciato un po' la ricetta con un po' di zucchero e succo di limone per dare un po' un giusto equilibrio tra acidità e dolcezza e una piccola, diciamo, nebulizzata di oli essenziali al bergamotto. Bene, grazie per il tuo contributo, grazie per il cocktail che noi a questo punto assaggiamo, visto che è giunto il miglior momento delle interviste, quello più atteso, quello dedicato agli assaggi. Grazie Alessandro. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie Fabio.